Io ho preparato, si guadagna tempo. Allora, poi si prepara Gilberto Trombetta, per te saluti del fronte sovranista. A proposito di guadagnare tempo, vi suggerisco una piccola, se volete farlo anche come esperimento, perché no? La punta degli elpsi, che lì nei bossi della Toscana, usa una tecnica molto interessante, come ho visto in un corso, che invece di attraverso è fatta lì. Questo consente, per esempio, di non interrompere chi sta parlando, di non fare rumore, ma diciamo, non è cosa intelligente, perché cosa? Mi stanno carino, no? Questo è un pezzo. Ecco, io procurai anche di dotarci di uno strumento di mediazione dei conflitti. Perché? È importante questo, perché mi dà fastidio che ci sia un Vox Italia, che sembra quasi prendere una sua strada, che ci siamo noi, che ci sono, non so, anche nell'informazione, c'è Google, c'è Pandora TV, ci sono tanti blog che più o meno mi seguono tutta una serie di argomenti, che sono molto affini a noi, perché non riusciamo a mettere insieme di più? E forse a questo proposito bisogna lavorarci, cioè ci deve essere un gruppo di cura della relazione, per esempio, di cercare di limare i conflitti e portarli e farli con entrambi le persone, c'è proprio un lavoro di una specie di, chiamiamola una commissione, non so, qualcosa di un gruppo che si occupa proprio di tenere insieme i pezzi, proprio di andare a pescare, ma tu hai avuto questo, ti stai dissociando, ti stai separando, cerchiamo di parlare, cerchiamo di rimettere insieme i corci, perché è un peccato, no? Che si rispargono l'energia in migliaia e in migliaia e in migliaia e in organismi, cerchiamo di rimettere insieme, no? Questo è un peccato. Grazie. Ecco, una cosa importante che ha detto un operatore finanziario, che ha venuto nel nostro obiettivo, ha detto una volta, intanto che un sistema non sarà in grado di soppiantare quello che esiste, non cambierà mai. E forse l'obiettivo quindi deve essere questo. Cioè dobbiamo porci il problema di fare un progetto di insieme, operativo, concreto, che si proponga di sostituire l'attore del sistema. Cioè non basta criticare il sistema, bisogna preoccuparci di progettare e costruire non l'altro. Secondo me, anche questo è importante, si possono... Il mercato è importante, sono da cosa che ci deve essere di mercato. Io sono per l'impresa privata, sono un artigiano, un artigiano agricoltore, però il mercato va regolamentato. Cioè bisogna, come dice la Costituzione, orientare l'impresa, orientare l'impresa al lavoro sociale. Quindi ci vogliono delle regole di mercato che dicano che cosa un'impresa deve fare, perché un'impresa deve essere regnata. Quindi, non so, un punteggio che stabilisce l'impresa di mercato che un'impresa ha, in funzione dell'occupazione, in funzione del ciclo di produttivi compatibili all'alimentazione, eccetera, eccetera. Per favore, dovrei intervenire, no? Sennò poi non si può... Ha visto voce! Ah, non si sente, scusate. Non si sente, non mi sento a parlare. Ecco, allora, dare un altro flash. Che cos'è l'informazione di master? Che c'è prima a Guido. È raggiungere le persone da dove sono. È importante questa cosa da qua. Perché se noi ci parliamo tra di noi, non stai da niente. Dobbiamo porci il problema di come raggiungere le persone da dove sono. Anche un'idea che a me è venuta rispetto alla rivista Sovranità Popolare, di comprare, prendere i pacchetti anche delle riviste immunizzate vecchie, e andarle a mettere nei posti dove la gente va ad aspettare il medico, il dentista, che non so. La dove? È lì e non sa cosa fare. Su tre. Perché no, certo, sono piccoli momenti. Ecco, poi dotarci anche di altri strumenti che non sono il web, perché è in mano sappiamo a chi. Quindi non so, le magliette da distribuire con delle scritte che danno dei contenuti. Anche il volantinaggio, l'alto volantinaggio, cioè diffondere dei messaggi importanti, brevi, popolari, con linguaggio popolare, che qualcuno potrebbe anche ristamparsi a sue spese e distribuirlo al suo vicinato, alle persone in forma privata. Cioè, questo è un modo di ricostruire il lavoro sul territorio, come lo avevamo una volta nelle sezioni, insomma, no? Ci sono raggiunto. Ok. Grazie. Di questo, una cosa che ci vediamo a sottolineare, noi siamo per la massima unità, ok? Però se nascono i partiti, qualche ragione ci sarà, non è solo per la migliora maniera di qualcuno, no? Per la migliora politica e per la visione del mondo. Ora, non immaginiamoci che sia possibile fare il partitone unico dei sovranisti. Io penso personalmente, è una nuova personale, sia un errore, perché qui non c'è solo il sovranismo, no? C'è una storia lunga che abbiamo alle spalle e c'è una società da immaginare. E su questo ci sono differenti opinioni. Ma noi siamo per la massima unità, ma nell'azione. Noi abbiamo proposto i cinque punti per quella maniera di azione. Hanno dentro tutti? Abbiamo già indicato noi la strada per l'unità. L'unità nel fare le cose. Poi se questa unità nel fare le cose apre la porta a qualcosa di più, ben venga. Ma facciamole questa unità. Adesso noi abbiamo un nuovo posto e proponiamo a tutti gli altri, no? Che insomma, a vario titolo, che sono d'accordo nella battaglia, a porre come centrale la mobilitazione per evitare la ratifica del messo. Perché qui, se no, cominciamo a discutere dei massimi sistemi. E il nostro umbilito passa il messo, è chiaro? Quindi tutti gli altri che dicono di essere scolastici, non è perché abbiamo nuova delle decisioni teoriche, delle decisioni teoriche, non abbiamo affatto paura. Ognuno di noi è la nostra idea. Noi intanto siamo forti, che siamo molto pluralisti e plurali anche in questo. Ma intanto c'è un'urgenza di questo Paese. Non ce la possiamo cantare e minare per altri vent'anni su quale tipo di scolastico, in quale di sotto. Facciamo una battaglia per bloccare il messo. È un invito che abbiamo già fatto, faremo tutti. Ci sarà un giorno della ratifica e lì non bisogna essere 3-4 mila come il 12. Bisogna essere centinaia e migliaia. Chiaro? Tant'è che noi ieri in piazza abbiamo detto le stesse forze in Parlamento che dicono di essere adesso, all'ultimo momento, per il giorno della guerra, contro il messo. Tutti in piazza, uniti, tutto un fronte popolare ampio per ottenere una vittoria e sarebbe una vittoria strepitosa. Questo è quello che conta poi, vincere le battaglie che si fanno. Non perdere. Scusate. Buongiorno a tutti, bentrovati. Sono Gisbert Brumbetta del fronte sovranista italiano. Sono qui come delegato per dare il benvenuto e fare l'imbocca blu alla nascita di questo progetto. Siamo particolarmente felici della nascita di questa nuova realtà. Devo dire che quando siamo partiti, come è partito, tre anni fa, temevamo di rimanere soli molto a lungo, insomma. Invece vediamo che stanno facendo nuove realtà, più o meno affini, ma con un obiettivo comune. Il lavoro, la dignità del lavoro, della persona e la lotta contro il neoliberismo e l'Unione Europea. Quindi vediamo il benvenuto nel gruppo. Speriamo di poter fare una strada molto lunga e proficua insieme. Noi dobbiamo la nostra massima responsabilità per lavorare piano a piano, con unità, si vuole tanta unità da parte di tutti e uscire un po' dai social e andare un po' nella vita reale, nelle piazze, nei mercati, nelle periferie, dove le persone ancora non sanno perché gli è successo quello che gli è successo. Uno studio inglese di un paio di anni fa ha cominciato a chiamare le cose con il loro nome. Hanno calcolato che i tagli alla sanità nel sistema inglese negli ultimi 4 anni avevano comportato 45.000 decessi in più. Gli hanno chiamati omicidio economico. Questo vuol dire che i politici e questi politici che le hanno approvate e spinte negli ultimi 30-40 anni in tutto il mondo sono assassini, non sono solo traditori. Sono tutti i morti evitabili, quelli per l'Italia e la sanità. I morti negli incendi greci dopo che nel 14esimo partietto della Troika gli avevano levato tutti i pompieri, gli aerei per spendere gli incendi. Il crollo del ponte Morandi. I suicidi per la crisi, come qualcuno ha ricordato bene, stranamente l'Istat dal 2010 non conta più. Li ha contati per 20-20 anni, poi hanno cominciato a impennarsi e non li conta più perché non sono più contabili i suicidi per la crisi. Ecco, questi sono omicidi di Stato e chi li ha perpetrati e li ha permessi sono assassini. Quindi benvenga la nascita di una nuova forza con cui siamo convinti potremmo percorrere una lunga strada insieme perché al contrario di quello che diceva qualcuno che l'euro sarebbe già tramontato anni fa che la Germania stava segando il ramo su cui era seduta siamo ancora qua da un moment'anni dalla firma dei trattati dall'euro e 27 dall'introduzione dei trattati di Mastri. Avete ragione voi, serve il popolo, la politica deve rinascere dal popolo o ci impegniamo tutti noi in prima persona o non sperate che le persone che ci hanno cacciato in questo incubo che si chiama onore europea ce ne tireranno fuori. Quindi benvenuti e spero che dobbiamo fare molte cose insieme. Grazie a tutti per la vista e a tutti i giorni. Mi chiediamo Andrea, mi chiediamo Francesco Veronese di Trieste ora una nota, sono già arrivati i famigli e le cose sono le 13.14, prevediamo uno stop di 15 minuti perché abbiamo pensato che se noi c'è qualcuno che va a mangiare e qualcuno che non mangia, le rattaccia una conclusione incredibile i famigli sono qui dietro con le davanti e tutti poniamoci l'obiettivo, un autodicimino minima che in 15 minuti ce la facciamo e ritorniamo tutti quanti insieme a seguire voi se ne era assorto? Bene, io ho l'Atrea e il coordinamento è stato io sarò bellissimo, voglio fare un appello alla intelligenza C'è qua Federico, il regista di Pixa che ha portato alcune copie in omaggio il film è bellissimo, non so se l'avete visto adesso dovete... Grazie Dicevo, volevo fare un appello alla nostra intelligenza perché forse ne abbiamo bisogno visto il film che c'è nel paese i giovani non stanno nemmeno a leggere così dicono così ci dicono poi non è bene poi non è bene poi non è bene Voce Voce L'appello è questo cerchiamo di non guardare il dito ma guardiamo la luna quelli che parlano non c'è più destra non c'è più sinistra non c'è più il centro hanno aderito alla pensiera unica c'è un problema più grande qua non c'è più la democrazia magari ci fossero i partiti politici che erano scuola per le persone che si incontravano che si scontravano che si confrontavano non ci sono più la destra e la sinistra sono la stessa identica cosa e hanno svuotato le sezioni hanno svuotato i circoli hanno svuotato tutti i luoghi di discussione in questo paese e sta cominciando anche lo svuotamento delle organizzazioni sindacali sempre più burocratiche sempre più lontane dal popolo prima il medico diceva sono dieci anni che non prendiamo un aumento di stivello e i medici diminuiscono il nostro paese quindi con tutti i danni che ricordava noi dobbiamo renderci conto che non abbiamo più una democrazia rappresentativa nel nostro paese perché se ci fosse una democrazia rappresentativa ci sarebbe come la destra e la sinistra perché i partiti rappresentano delle parti della nostra società sono vitali per la nostra società allora l'appello che faccio io è questo costruiamo costruiamo l'Italia come una casa a cui teniamo come una casa a cui teniamo dove cominciamo a confrontarci magari anche a dividerci magari anche a scontrarci a confrontarci per trovare soluzioni di cui abbiamo bisogno noi dobbiamo fare tutti noi uno sforzo al di là delle appartenenze vedete io sono vecchio ma io dico non so un uomo vecchio ma ho bisogno di un socialista e dico che emergeranno necessariamente differenze posizioni politiche posizioni teoriche differenti ma liberiamo l'Italia può essere un grande momento di ripresa di sovranità popolare di occasione per riportare la politica lì dove deve stare nella città nei territori nelle università nelle scuole nelle fabbriche dobbiamo ricominciare un'attività politica vera perché capitale finanziario perché il neoliberismo ci vuole un ginocchio ci vuole senza cultura ci vuole tutti uniti per dei miti che poi in realtà comportano dei danni alla nostra casa allora io concludo facendo due parole volte così adesso neanche concreti specializzare un po' le altre cose io propongo che tutta la campagna del MES sia da qui a quando ci sarà la tipica sia accompagnata da una presentazione di l'Iberia l'Italia come un'occasione per tutti quelli che vogliono ricominciare a fare attività politica vera nel nostro paese quindi presentiamo in tutte le città di Italia studiamo un rossio e presentiamo in tutte le città di Italia che liberiamo l'Italia seconda cosa io faccio una proposta vedete secondo me i simboli sono importanti i simboli sono importanti c'è la gente che ci è fatta fucilare che è una propria bandiera per il proprio simbolo i simboli sono importanti io propongo di unire all'Iberia l'Italia un simbolo che si chiama Italia in modo tale che così siamo schiani siamo schiani dov'è lo sottile di quello che teniamo perché senza l'Urlova senza l'Urlova non raggiungeremo il nostro obiettivo tutto grazie il cantario Francesco Lero grazie allora poi si prepara Fabio Fradi e dopo Fabio Fradi facciamo i 15 minuti di interruzione per mangiare il panino due parole sul nostro giornale sovranità popolare dobbiamo fare sono 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 doveroso di cui ho anche l'onore di appartenere al comitato di ormai è riconosciuto che i mezzi di comunicazione di massa diffondono la cultura dominante e come diceva uno studioso in questi argomenti concorrono concorrono a creare un immaginario collettivo fatto di quelle stesse informazioni di quegli stessi simboli di quelle stesse immagini che questi mezzi propinano si tratta di una vera e propria influenza sociale che provoca la formazione o il cambiamento delle opinioni degli utenti da cui seguono poi anche i mutamenti nei loro comportamenti questa è la forza dirompente del potere mediatico un esempio tipico è quello che viene chiamato frame basta inserire in contesti negativi eventi persone idee immagini perché prima o poi vengono risidati e viceversa se inseriamo in contesti positivi le stesse cose prima o poi vengono accettate vengono accortate l'esposizione ai mezzi di informazione di massa è la fabbrica più efficace che si conosca del pregiudizio e della stereotipia sovranità popolare vuole rompere questo pernasso meccanico con l'approfondimento e con la conoscenza sovranità popolare si libera dei vincoli editoriali del padrone tra virgolette perché tutti possono diventare editori non esiste un unico editore che possa imporre il suo punto di vista i nostri presupposti editoriali sono primi di centri di potere economici e politici ma come facciamo con un giornale nato da poco contrastare mezzi di informazioni così potenti e consolidati ebbene ci sono degli studi di marketing aspirabilissimi perché verificati in pratica che dimostrano che è possibile distruggere l'efficacia del potere mediatico e la parola magica chiamiamola così una parola inglese che però nasconde un concetto semplicissimo macro influencer i macro influencer sono persone che agiscono solo nel loro entourage di conoscenze consolidate in questo ambito se manipolassero gli altri verrebbero subito scoperti e respinti perché sono ben conosciuti ma se esprimono convinzioni autentiche questo viene immediatamente percepito è questa la differenza sostanziale col messaggio mediatico tutto questo sembra banale ma non lo è si pensi che stanno appunto costruendo degli indirizzi di laurea a certe università su questi argomenti e ci sono dei specialisti che girano i mercati per proporre soluzioni con questi sistemi l'azione dei macro influencer è dimostrato risulta sempre vincente nella forza dei confronti della forza di rotente dei mezzi di diffusione di massa personalmente ho voluto anche verificare l'effetto di questa teoria che non è una teoria perché è una parola io ho un amico che ha avuto dei successi professionali enormi è molto sicuro di sé e è abbonato a Repubblica e a giornali di questo tipo perfettamente allineato col PD al centro-sinistra convinto europeista non gli ho mai parlato gli ho parlato di che cosa mi occupo ma non ho mai tentato di convincere ho semplicemente inviato via e-mail le copie mediatiche del nostro animale essendo una persona intelligente e curiosa la rete recentemente l'ho incontrato e mi ha raccontato che intende cambiare rivedere la sua posizione politica e mi ha chiesto come fare per iscriversi per abbonarsi al nostro lavoro e allora una cosa solo sono tanti che forse voi conosciamo gli abitanti i cittadini italiani sono di 59 migliori gli attivi sui social sono 35 milioni il 74% di questi interagisce con i post e scrivendo neanche i social un italiano trascorre mediamente un'ora e 51 minuti al giorno sui social e poi ci risulta le certe statistiche che Facebook costituisce l'81% di tutto questo è il caso di pensare grazie grazie Francesco allora facciamo la pausa 15 minuti secchi per il panino per il porto di là giù allora oggi penso sia un momento molto importante molto importante e dobbiamo farci i complimenti dobbiamo farci i complimenti perché come siamo arrivati a qua penso ognuno attraverso la sua strada c'è stato un momento di presa di coscienza tanti anni fa in cui abbiamo realizzato che tutte le cose che ascoltavamo che ci raccontavano non davano soluzione ai problemi che vedevano accadere intorno a noi poi c'è stata la fase dello studio del confronto personalmente per me è un lato una decina di anni in cui ci siamo incontrati qua e piano piano da tante parti è nata la consapevolezza che senza questa presa di coscienza e senza questa presa di coscienza tramutata in qualche cosa di organizzativo di concreto che incidesse veramente non potremmo fare nulla e questo paese era destinato all'inferno che era stato programmato in maniera scientifica e demoniaca decenni fa da un'origarchia spaventosa che vuole controllare il pianeta e dopo tutti questi passaggi dopo tutta questa fase in cui si discuteva noi come Liberiamo Italia abbiamo capito e visto venendo molti di noi da tante strade in cui hanno militato e fatto politica per decenni che se non si faceva il salto concreto di far vedere che si era usciti dalla fase del dialogo e si stava costruendo qualche cosa per avere uno strumento che facesse camminare in maniera reale le cose che dicevano non si andava più da nessuna parte e si rimaneva confinati in una sorta di tempo di convegnistica in cui vari professori grilli parlanti eccetera cercavano ognuno di avere un esercito proprio personale per dimostrare agli altri che solo le cose che dicevano loro erano quelle giuste bene con il 12 ottobre questa fase è terminata perché siamo riusciti finalmente a dare una concretezza reale rispetto ai milioni che vogliamo aggiungere che si sta incominciando a incamminarci su quella strada il passaggio successivo qual è? ed è questo perché è importante il passaggio successivo è che tutta questa cosa deve iniziare a precipitare e a sedimentare organizzazione ma perché organizzazione? perché se siamo conseguenti con le parole le denunce che abbiamo fatto noi dobbiamo ricordare che il nemico che fronteggiamo e che fronteggeremo è tremendamente organizzato è tremendamente intelligente è tremendamente potente per cui se non siamo organizzati saremo sfazzati via e perché è importante ed è possibile anche se all'inizio sembra che sia quasi una lotta impossibile è invece possibile perché la nostra offerta politica tocca tutti i problemi che la gente normale ha tutti i giorni perché qualsiasi cosa non va qualsiasi cosa non funziona se non si dà la nostra chiave di lettura politica il cittadino X non potrà risolverla non hai lavoro i tuoi figli non hanno lavoro o se ce l'hai è precario sfruttato mal pagato perché si deve rispondere a determinate logiche per fare questo per poter assumere 3 milioni 3 milioni e mezzo di persone quello che oggi in Italia avrebbe bisogno non si può fare se non spaccando la gabbia che c'ha l'inchiuso in questo cortile che è una tornara è una tornara in cui piano piano stanno suppiando le nostre risorse le nostre rinchezze i nostri diritti per poi lasciarci in uno stato di semi colonia di semi scarico allora se noi abbiamo questa grande possibilità perché sul lavoro sulla sanità sui trasporti su tutto quello che vediamo intorno senza la nostra argomentazione politica e senza le nostre soluzioni politiche che diamo non si va da nessuna parte allora noi dobbiamo fare informazioni cioè abbiamo la possibilità di parlare con la gente e di convincerla che è quello che diciamo che è possibile e nello stesso tempo dobbiamo smascherare quelli che spargono glorfogno anestesie tostiche che raccontano cose che non potranno mai essere realizzate e che se diventano rassegnazione e scoramento quelli che noi diciamo una massa di indegni rappresentanti del popolo italiano che andrebbero tutti non solo cacciati via ma processati ed è la verità per alto tra l'unico perché non è possibile che determinate cose non si siano capite perché io non sono amistanti io quando da solo ho cominciato a guardare ma facendo ragionamenti di buon senso per cui se non lo fanno è perché non lo vogliono fare perché è conveniente non farlo perché se lo fanno non verranno più ricannitati allora rispetto a questo io dicevo e termino penso che l'importanza di questa fase in cui noi ci stiamo organizzando noi dovremmo avere un'attenzione doppia tripla di altre situazioni normali perché le persone che oggi cominceranno a sedimentare a organizzare liberiamo l'Italia all'interno di tutto il paese dovranno essere persone speciali perché saremo sottoposti a ogni tipo di attacco ogni tipo di accusa per cui dovremo essere molto molto attenti da quelli che verranno e parleranno a nome di tutti quanti io so che può sembrare che faccio un discorso troppo organizzativo e stretto e verticistico però non è così però dovremo stare molto molto attenti e mi parlo oggi ho qui fortunatamente il ricambio oggi non sono gli anni 60 e 70 oggi chi si avvicina può essere qualcuno che può la fede non ha mai fatto politica non sa neanche di che cosa si sta parlando e siccome dobbiamo fronteggiare gente che è tremendamente esperta servono persone stabili che siano capaci di organizzare coordinare e far crescere io sono molto fiducioso anche perché non abbiamo alternative chiudo sul simbolo una cosa sola non abbiamo alternative e dobbiamo farlo per noi e per i nostri figli ricordandoci quello che i nostri padri hanno lasciato a noi perché se non ce la tocca non dimenticare io quando ho cominciato io camminavo in un giardino questo paese era un giardino guardate quello che stiamo lasciando termino sul simbolo i simboli hanno una forza che buca in millenni noi dobbiamo trovare il simbolo dobbiamo registrarlo perché se il simbolo funzionerà lo copieranno e diranno cose diverse da quelle che vogliamo dire noi adesso sono d'accordo che all'interno di questo simbolo anche per sbombare il campo da quelli che dovrà esserci la banalizziamo Italexit è così perché non ci sono alternative il resto sono fuori e grazie 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 a Padre allora insomma è 13.45 tra 15 minuti io faccio un po' di cedere ora